Mentre si spulciano le carte e 200 pagine di ordinanza sull'inchiesta relativa agli appalti pubblici che all'Aquila ha scatenato l'ennesimo terremoto giudiziario, l'attenzione degli investigatori ora si poggia anche sul Teatro Comunale dell'Aquila e sui suoi lavori. Nelle intercettazioni, infatti, si parla chiaramente del teatro. Dalle telefonate verrebbero fuori dei dubbi tecnici, come l'assenza di una relazione geologica sull'intervento di recupero e restauro del Comunale dell'Aquila. La Procura avrebbe già informato della questione il Comune, che è proprietario dell'immobile, e dunque ora si teme però un nuovo stop dei lavori, dal momento che ci saranno ovviamente verifiche sulla tenuta di questi ultimi. Era inevitabile del resto. Se cade qualcosa di chi è la colpa, si dice così in una telefonata, parlando di eventuali nuovi scosse all'Aquila. Lavori svolti evidentemente senza un sopralluogo e senza le necessarie verifiche antisismiche e senza atti al genio civile, che venivano invece gonfiati, arrivando anche a 13 milioni di euro circa. Anche in questo caso di mezzo Leonello Piccinini, geometra del MIBAC, e Leonardo Santoro, geometra dell'Internazionale di Altamura. Dagli atti è evidente che Zavarella avesse avuto l'incarico grazie a Piccinini, ed emerge altrettanto chiaramente l'inizio dei lavori di scavo della Pratea senza sopralluoghi precedenti. Inoltre, come dicevamo, nessuna relazione ideologica, nessuna verifica sismica. Dagli atti emerge anche che la ditta si era posta a un problema di stress della struttura e di valutazione del rischio, che la sovrintendenza non si era posta invece pur di ottenere la variante ombre su ombre sulla ricostruzione. Gli inquirenti ora hanno a disposizione tutte le carte, probabilmente la settimana prossima inizieranno gli interrogatori, e come preannunciato è iniziata anche l'ispezione interna negli uffici della sovrintendenza e del MIBACT.